Con 20 casi settimanali al contagio da Covid-19 ogni 100.000 abitanti, le Marche volano senza grossi intralci verso l'ingresso in zona bianca dal lunedì 21 giugno. Un allentamento di restrizioni che è stato guadagnato su numeri da Covid-19 in picchiata che si intersecano a numeri crescenti di vaccinati. Oltre metà dei marchigiani è stata immunizzata con almeno una dose. Sempre di più sono però quelli decisi a cambiare siero per la seconda inoculazione. È infatti diventata prassi sempre più frequente il rifiuto al siero AstraZeneca per i vaccinati in prima dose con il siero anglo-svedese. Aspettando i chiarimenti sanitari nella prossima conferenza della regione di domani, i centri vaccinali allora ricalibrano e riprenotano le vaccinazioni di conseguenza, soprattutto quelle degli over 60. Non mancano le difficoltà logistiche e organizzative, ma ora le nuove forniture di Pfizer e Moderna in arrivo amplieranno la possibilità di completare i cicli vaccinali. La situazione per lo shift, quindi la vaccinazione eterologa AstraZeneca o con Pfizer o con Moderna per seconda dose di coloro che hanno sotto i 60 anni, è una disposizione del Ministero e quindi noi ci atteniamo scrupolosamente alle tutte le indicazioni che arrivano. Considerate che io sabato mattina avevo il punto vaccinale di Gradara che doveva fare le seconde dosi di AstraZeneca agli insegnanti, per esempio, perché mi avevano differito una quota parte per far prima. Io ho dovuto nella sera andare a prendere le dosi di Pfizer e portarle su in urgenza in modo tale che il giorno sabato ci avessero tutto. Quindi noi siamo organizzati, so che domani arriverà un grosso quantitativo di Pfizer e Moderna, quindi ci siamo. Però certo che le persone possono essere un po' disorientate perché prima in un modo, poi in un altro, poi cambiano sempre queste fasce d'età, però è normale nel senso che questa è una vaccinazione, oltretutto in emergenza, è una vaccinazione in pandemia, sono vaccini nuovi, ma soprattutto c'è una particolare attenzione per il rischio beneficio. Quindi ogni volta che il rischio della vaccinazione è leggermente superiore al rischio nella popolazione normale cambiano le indicazioni, ed è normale. Questa è farmacovigilanza, questo è tutto un sistema che Italia ha molto forte.